Allora, Dio oggi anzitutto è contento, sapete perché? Perché lo avete invitato al vostro matrimonio. Buon cammino, cari Antonino e Francesca. E con questi segni esplicativi, benediciamo il signore Antonino e Francesca, sono ufficialmente marito e moglie, auguri! Buon cammino, cari Antonino e Francesca, Buon cammino, cari Antonino e Francesca,